Questa è una storia senza tempo. Come ogni anno Rupert trascorrerà il Natale con la perfida nonna Porfiglia. E per non farlo impigrire troppo Porfiglia gli trova sempre qualcosa da fare. Povero Rupert dovrà affrontare una fidanzata appiccicosa, nonne in bestialità, terribili uomini, fumetti pericolosi e un'invasione di extraterrestri, molto extra. Ma forse vi sto raccontando troppo di questa magica fantavventura. Mi chiamo Rupert. Ce la farà Rupert a liberare la casa dall'invasione aliena? Vi aspetto tutti al cinema! Ci vediamo ragazzi! Il magico Natale di Rupert dal 3 dicembre al cinema. Grazie!